Quando sfumarsi i festeggiamenti porta sempre sfiga, ecco questa è la verità. Siamo partiti 9-0 e con 9-0 è chiaramente partita tutta la voglia di Pistoia. Noi abbiamo difeso male ogni tanto la difesa dal contropiede, dalla transizione, noi sono stati bravi andare 9-0, però dopo il time out c'è stata veramente una reazione di compattezza di squadra che ci ha portato addirittura a vincere il primo quarto e lì siamo stati bravi poi nel gestire tutta la partita contro una Pistoia veramente mai doma. Siamo 2-0, per noi questo qua è importantissimo. Adesso abbiamo tre match ball, ci concentriamo esclusivamente su gara 3, cioè sulla prima di dopo domani a Pistoia, sapendo che se tutto dovesse andare malissimo si ritorna qua a giocare. Si poteva andare in una direzione tipo quella di due giorni fa dove Avellino poteva prendere il largo, invece la nostra squadra ha reagito veramente in maniera tecnica e fisica perfetta per poter competere con una squadra di prima fascia, di primissima fascia, qual è attualmente Avellino. Quindi ripartiamo dal terzo e quarto quarto, ancora più che i primissimi minuti della partita e poi proveremo ad allungare la serie, anche se sappiamo che è molto difficile nonostante che si giochi in casa. Grazie a tutti.